Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega marceranno uniti in Campania, così come è già accaduto in altre parti d'Italia. Si tratta solo di scegliere il nome che possa ben amalgamare la coalizione, di mettere in campo un buon programma che metta ben in evidenza gli ideali di tutti i partiti della destra. Così questa mattina assalerno l'onorevole Edmondo Cirielli, questore della Camera dei Deputati. Sebbene sia ancora presto per pensare alle elezioni regionali della Campania, previste per la primavera 2020, la classe politica di centrodestra già scalda i motori per ribaltare le poltrone e rinnovare il Consiglio regionale della Campania, creando le condizioni per battere il governatore De Luca. Caldoro e Carfagna sono due nomi ottimi e validi che possono far sì che la regione Campania si rimetta in moto, ha ribadito l'onorevole Cirielli, parlamentare di Fratelli d'Italia. È un discorso prematuro, si vota a maggio, bisogna essere pronti a ogni sfida, governare la Campania è una sfida enorme, ma chi fa politica non può tirarsi indietro di fronte ad eventuali sfide. Così invece l'esponente di Forza Italia è vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, commentando l'ipotesi di candidarsi alle regionali in Campania. Caldoro e Carfagna potrebbero essere due nomi possibili? Sicuramente sono nomi ottimi, certamente non vediamo come è stata governata il fallimento di De Luca e del PD con questa finta opposizione dei 5 Stelle. Penso che al di là dei nostri nomi, che sono tutti validi, l'importante è che la Campania si rimetta in moto. Abbiamo bisogno di sperare che la nostra sanità e i nostri trasporti ritornino e soprattutto diventino sempre più quelli di una nazione civile. in Campania siamo veramente all'anno zero, c'è l'idea di restituire trasparenza, legalità, basta vedere il caos di questi concorsi alla regione, il caos dei navigator, veramente insomma De Luca anche al di là di ogni più negativa ipotesi è stato un fallimento. Ma la cosa grave secondo me è anche questa finta opposizione assistenzialista dei 5 Stelle, che hanno messo in campo questa sorta di voto di scambio di Stato che è stato appunto il reddito di cittadinanza, che ha depresso le nostre aziende, i giovani campani che pure hanno sperato in un cambiamento con i 5 Stelle, l'unico cambiamento che sono riusciti a ottenere è il reddito dei parlamentari, dei consiglieri regionali dei 5 Stelle che prima era pressoché zero e oggi invece vivono più che dignitosamente. Quindi è importante restituire questa nazione e questo governo regionale al centro-destra, perché possa rimettere in moto l'economia, dare lavoro vero, restituire sicurezza che oggi è anche in Campania purtroppo assai pregiudicata con un'immigrazione sempre più incontrollata, in una condizione anche di impossibilità di integrazione per il numero e per la situazione economica. Se i nostri giovani sono costretti a emigrare, è chiaro che è assurdo far venire persone e pagarle 30-40 euro al giorno così come accade. Centrodestra deve puntare alla coesione, ma non crede che l'elettorato invece ormai è smarrito? No, io penso che l'elettorato di centrodestra è assolutamente ben unito, ben più avanti della politica. Non è solo una questione di sondaggi che ormai danno ben oltre il 50% l'elettorato di centrodestra. Certo, mi rendo conto, quelli che hanno votato in questi anni sinistra pensando di votare un partito che difendeva i deboli e vedere poi che la sinistra è alleata non con i 5 Stelle, ma alleata con i poteri finanziari delle banche, dell'assicurazione e a favore della globalizzazione. Chi ha votato i 5 Stelle perché aveva votato contro lo schifo di questi governi del PD e tecnici alleati delle tecnocrazie bancarie, vedere oggi PD e 5 Stelle alleati, mi rendo conto che chi li ha votati è smarrito e molti di queste persone non andranno a votare, ma sbagliano. Devono invece rendersi conto che oggi il centrodestra è in grado di garantire meglio i diritti, è in grado di garantire meglio i lavoratori, di garantire meglio i giovani, di dare un'opportunità vera alla nostra economia senza false promesse, senza clientele e senza soprattutto lo sperpero di denaro pubblico che ci distrugge.